Ciao a tutti, buongiorno amici di Officina 77 in Micciani Unita, siamo qui a Marmosedio con il Festival delle Valle e Montagne dell'Appennino Centrale. Questo è il sentiero che oggi inizieremo a pulire per i percorsi del sentiero E1. Venite con noi, vi accompagniamo in questa nuova avventura. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Micciani è partita, forbici da putatura alla mano, macchina fotografica a tracollo, oggi è un multitasking. Proseguiamo, andiamo al sentiero intanto, i nostri compagni si sono inoltrati. Ciao! Siamo all'inizio del sentiero da pulire. C'è Cesare, c'è Sergio, c'è Diego e c'è il capo con il tagliaerbe ignorante che è lì davanti a noi. E ci sono trampa! Stiamo andando con il cesta di Silvin per l'estrazione dei prati sovrastanti a questo sentiero che si trova sopra a Fiamminiano. e andremo a scoprire cosa c'è oltre a questi ruvi. Sì, sì, sto attrettando. Stiamo andando in esplorazione del tratto del sentiero. Questa è la pallata del tratto del piccolano. Da quando ho lasciato il gruppo di ragazzi, i lavori sono proseguiti. L'inizio del Cescuglia di Rovi è stato eliminato. Allora, ripresentiamo il gruppo. Abbiamo Federica di Viccianinita. Abbiamo Sergio Virgì. Davanti abbiamo Diego, che conosciuto oggi. E poi abbiamo Roberto Ferrari. Davanti a tutti in quel position. E stavo raggiungendo Cesare. Cesare, stavo raggiungendo te. Ah, ho detto che Roberto l'ho sentito. Ah, ok. Perché sai che succede? Lui adesso, quando lo darti, trova il sentiero che abbiamo già visto. Ok. Che fa su a piedaterra. Ok. Lo abbiamo visto sotto quel casino. E un altro invece taglia verso la chiesa. E lì bisogna veramente chiudere un muro di roba. Di rovi. Eh sì, adesso vi vado a vedere. Quindi ci ricongiungiamo, cioè siamo qua con loro? Sì, vediamo all'asfalto. Io mi sono messo lì per farmi sentire dove sono. Invece... Ma se non mi ascolta perché c'è il rumore della rara. Sì, no, non ti ho sentito niente. Eh, se tu vai e gli dici che tacciano un momento, io gli dico a Roberto dove mi sono. Vado? Ok, perfetto. Facciamo così, così. Mi senti di te e ti vedo. Perfetto. E torniamo su. Questa è la situazione. C'è un gioco di squadra e mi farebbe molto piacere che venisse carpita questa situazione. Perché siamo in sei, ma crediamo in questo progetto. e ci farebbe piacere che fosse un progetto comune a più persone. Vediamo... Adesso chiederò di tacere un momento. Ragazzi, ha detto Cesare di stoppare un momento. chiamolo, Roberto. Sì. Roberto. Ok. Ha detto Cesare di... Cesare? No, Cesare. Roberto, devi levare le cuffie. Ah. Ok. C'è Cesare dall'altra parte della rupe? Sì. Che vuole darvi l'indicazione di come proseguire. No, voi troverete. Non da voi. La città è la punta, non tarda. Noi, non lo faremo. Noi, non lo faremo. Noi, non lo faremo. Noi, non lo faremo. Sì, Cesare! Allora, l'intento di questo documentario è far capire a chi ci guarderà, a chi sarà curioso di seguirci. Grazie. Ciao, l'assistente. Che ora di merenda, non abbiamo fame. Quello che vogliamo far capire è che questo territorio va valutato, anche attraverso i canali internet che sono la forza di questa società, di coinvolgere più persone possibili per unire le forze. Abbiamo ronche per tutti, quindi vi invitiamo nel proseguire con noi la pulizia di questi sentieri e lo faremo adesso in maniera molto così formale, ma presto vi inviteremo in una maniera un po' più decisiva. Grazie Roberto. Il 14 ottobre vi aspettiamo la giornata nazionale del cammina. del camminare. Del camminare. Proveremo questi sentieri. Questi. Questo è il risultato del lavoro di un'ora. Abbiamo fatto circa 10 metri. Ah, il 14 ottobre troverete tutto pulito. Eccoci. Siamo arrivati e abbiamo terminato il piccolo tratto. Tutti all'opera. Abbiamo sfondato la grande parete di Torino. Adesso siamo arrivati sulla strada principale, quindi per oggi diciamo che abbiamo fatto un altro muro. l'ultimo metro. L'ultimo metro. Eroiii! Eroiii! Per un futuro. Mi spazz Ross. Ci lo abbiamo fatta! Grazie a tutti.